63 anni compiuti il 6 gennaio scorso, l'avvocato Giovanni Legnini, nativo di Roccamontepiano, provincia di Chieti, è il nuovo commissario per la ricostruzione del dopo terremoto isolano. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nei giorni scorsi, Legnini è stato confermato per il 2022 nell'incarico di commissario straordinario di governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 nel centro Italia e nominato commissario straordinario di governo per gli interventi nei comuni dell'Isola Tischia colpiti dal sisma del 2017. Legnini entrerà in funzione nel nuovo incarico non appena concluso l'iter per la registrazione del decreto di nomina. Laurea in giurisprudenza con 110 e lode, il curriculum dell'avvocato Legnini è denso di incarichi istituzionali. È stato sindaco del suo paese per 12 anni, quindi consigliere comunale e presidente del civico consesso di Chieti, poi senatore e quindi deputato. Quindi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e sottosegretario al Ministero dell'Economia fino ad arrivare nel 2014 all'incarico di vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Dal febbraio 2020 è commissario per la ricostruzione del centro Italia. Ringrazio il Presidente del Consiglio Draghi per la fiducia che mi ha accordato conferendomi l'incarico di commissario straordinario di governo per la ricostruzione di Ischia che segue il rinnovo di quello per il centro Italia, ha detto Legnini, sarò a Napoli e ad Ischia per avviare concretamente il lavoro insieme alla Regione, ai sindaci e ai cittadini, ha proseguito. Si apre un'impegnativa e nuova fase nell'azione di ricostruzione e sviluppo di Ischia, ha commentato poi il Presidente della Campania De Luca, cui la Regione si dedicherà con impegno e pieno spirito di collaborazione con la struttura commissariale. Nei prossimi giorni, dice De Luca, programmeremo un incontro con il neocommissario Legnini per concordare il rapido avvio del Comune Lavoro che ci rivedrà impegnati nei prossimi mesi.